Le prime 24 ore di sciopero ci sono state ieri per il cantiere dell'igiene ambientale di Torre del Greco, lavoratori della Butol, con la quale tutte le organizzazioni sindacali hanno da tempo una serie di problematiche e divertenze che hanno portato appunto a un ennesimo stato di agitazione e poi la programmazione di sciopero. Ieri per le vie brevi abbiamo concordato l'appuntamento con il nuovo dirigente del settore. Siamo venuti qua, abbiamo fatto giusto una chiacchiera di 5 minuti, ci siamo aggiornati ad una riunione che ci sarà prossimamente convocata dal dirigente e vediamo se ci saranno passi in avanti per quanto attiene alla risoluzione delle problematiche a tutt'oggi non risolte. Se ci sarà, come dire, passo in avanti, noi siamo sicili sindacali che da sempre facciamo scelte di responsabilità per il bene dei lavoratori, della cittadinanza e delle amministrazioni. Se ci saranno, come dire, condivisioni, una progettualità dei programmi tesi, volti a risolvere le problematiche che stanno a quei lavoratori, siamo pronti, come dire, ad ascoltare e ad accordarci. In caso contrario saremo costretti a programmare le ulteriori 48 ore di sciopero, così come previsto dalla legge vigente che regola appunto lo sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali. Questo incontro è stato un incontro, come dire, ufficioso e non ufficiale. C'è stato anche da parte nostra perché eravamo prestati, visto le esigenze di creare le condizioni, perché Torre del Greco, la vediamo sotto tutti quanti, non è che sta brillando per la pulizia. E questo sicuramente non è responsabilità dei lavoratori, bensì dell'azienda, che sistematicamente ogni quavvolta noi facciamo degli incontri e degli accordi, non solo incontri, viene meno sui patti sottoscritti. Ed ecco perché, diceva anche Ciro, noi siamo delle organizzazioni sindacali che in primis ci teniamo sia per i lavoratori, ma che poi sono cittadini di Torre del Greco, quindi anche per Torre del Greco. In questo noi ci auspichiamo che il sindaco piglia provvedimenti, anche in quanto responsabile della salute pubblica sul Comune di Torre del Greco. Quindi pertanto faremo un incontro, sicuramente avremo una richiesta ufficiale di incontro al nuovo responsabile del settore, ma io penso che in questa situazione dovremmo coinvolgere anche il sindaco nella sua, come dicevo prima, responsabile della sanità pubblica del Comune per trovare una soluzione al problema della NU a Torre del Greco. Grazie a tutti.